Che cosa sono i radicali liberi? Quando ci sono elettroni spagliati nel guscio esterno di un atomo o di una molecola, questa ha una capacità reattiva che può causare danni agli organismi viventi, infatti può creare dei legami oppure può rompere dei legami. Esistono sostanze naturali che possono neutralizzare o inibire i radicali liberi che ingeriamo o che respiriamo dall'ambiente esterno, con una pessima alimentazione oppure danni inquinamento e quindi se questa molecola ionizzante viene inibita noi subiamo meno danni. Qui ad esempio vediamo che sia l'inquinamento che l'irraggiamento solare o l'irrazione in generale possono creare questi radicali liberi nel nostro corpo che vanno a fare danni. Quindi sostanze antiossidanti o anche sostanze che ci riparano da elementi radianti come la crema solare ci proteggono da questi radicali liberi che semplicemente accelerano i processi di invecchiamento perché se fanno danni il corpo deve spendere risorse per andarle a riparare. Più il corpo spende risorse, più rapidamente il corpo subirà danni di invecchiamento. Qui leggiamo ancora che i radicali liberi possono essere generati anche da reazioni ionizzanti come quella solare, ma anche da sostanze inquinanti come il monossido di azoto NO e tutti gli NOx, ovvero NO2, NO3, NO4 e così via, che sono prodotti da combustioni incomplete o pessime combustioni di idrocarbori e non solo. Questo è solamente un estratto della mia lezione sui legami chimici. Nella lezione completa parlerò del rapporto che c'è tra l'energia di ionizzazione di un atomo e i legami che questo può fare con altri atomi. Parlerò del legame metallico, parlerò degli orbitali ibridi, specialmente quello del carbonio, vedremo le forze intramolecolari come ad esempio il legame idrogeno, ma non solo, e poi quando parlerò di legami multipli vedremo la differenza che c'è tra i legami sigma e i legami pi greco. Potete trovare tutto il mio corso della chimica facile e in particolare anche questa lezione, la numero 4 sui legami chimici e le molecole, sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook prof. Antonio Loiacono. Grazie.